anche simona ventura si è unita nel ricordo del 25 aprile la nota conduttrice ha condiviso una bellissima foto sul suo profilo instagram moltissimi i vip e i personaggi dello spettacolo che a modo loro hanno voluto ricordare la festa della liberazione oggi 25 aprile anche simona ventura insieme a tanti colleghi ha ricordato l'anniversario della liberazione nazi fascista con un post sul proprio profilo instagram un dipinto a dire la verità di caffiero filippelli in cui sono ritratte due donne mentre cuciono insieme il tricolore italiano l'augurio tramite la didascalia per simona è quello del ricordo il ricordo dei nostri padri che hanno combattuto per la libertà come ha scritto la conduttrice accanto al post oggi più che mai dobbiamo averne rispetto nel dipinto di caffiero filippelli noto pittore degli inizi del 1900 del 1920 si possono ammirare due donne nell'atto di cucire la bandiera italiana sicuramente un senso di patriottismo nel dipinto diverso dalla festa del 25 aprile che celebra la liberazione nazi fascista dell'italia anche se il senso che la conduttrice dà al dipinto è puramente personale in questo dipinto del 1920 dell'artista filippelli è il significato che do al 25 aprile tutto l'amore e la cura che questa donna mette nel rammendare il nostro ci ricorda che i nostri padri hanno combattuto per la nostra libertà oggi più che mai dobbiamo averne rispetto i fan hanno condiviso il post e si sono riversati nei commenti per festeggiare insieme alla loro beniamina grazie a tutti Grazie a tutti.